Il decimo censimento dei luoghi del cuore FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ha superato ogni aspettativa con oltre 2 milioni di voti nel 2020. Il miglior risultato di sempre per il censimento del FAI. La decima edizione è stata avviata lo scorso 6 maggio e promossa in collaborazione con Intesa San Paolo. A vincere questa edizione del censimento non sono stati solo i luoghi più votati, con le loro affascinanti storie e la loro necessità di cura, restauro e attenzione, ma anche l'intero patrimonio culturale e ambientale italiano. La classifica vede al primo posto la Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza, al secondo il Castello e Parco di San Mezzano a Reggello, al terzo il Castello di Brescia, al quarto la Via delle Collegiate a Modica, al quinto e infine l'ospedale e chiesa di Ignazio Gardella d'Alessandria. Al Piemonte quindi ben due luoghi del cuore. Cuneo Ventimiglia Nizza, conosciuta come la Ferrovia delle Meraviglie, con il primo posto della classifica speciale e il luogo d'Italia sopra i 600 metri. Inserita nel 2016 da una rivista tedesca tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo, la Ferrovia delle Meraviglie è una straordinaria opera dell'ingegno umano che sfida i limiti fisici. In meno di 50 chilometri in linea d'aria, 96 di estensione lineare, supera un dislivello di 1000 metri. Nata nella mente di Cavour, che a metà Ottocento intendeva collegare il Piemonte a Nizza, allora a Sabauda, la Ferrovia fu costruita a partire dal 1882 e inaugurata nel 1928. Comprende 33 gallerie, alcune delle quali elicoidali per superare la pendenza, e 27 ponti e viadotti, gran parte dei quali distrutti nel 1943 dalle truppe tedesche in ritirata. La ricostruzione avvenne negli anni 70 con un accordo italo-francese, ma la mancanza di una politica di rilancio ha portato a un inevitabile declino, con una minaccia di dismissione sventata nel 2013 anche grazie a un intervento di sensibilizzazione del FAI. Nonostante un investimento di 29 milioni di euro per manutenzioni e ammodernamenti, le corse sono state ridotte a due al giorno e l'alluvione del 2 ottobre 2020, che ha portato allo smottamento del Colle di Tenda e all'isolamento della Val Roia, cuore della Ferrovia, ne ha minato nuovamente le sorti. Si spera con questo riconoscimento si possa ottenere il potenziamento della linea e la sua valorizzazione, oltre a un nuovo accordo italo-francese.